Se io fossi Presidente la prima cosa che farei è mettere in bocchettino a posto questo Gargano, lo valorizzerei un po' di più perché stiamo proprio male. Poi soprattutto in questo Paese siamo diventati l'ultimo Paese del Gargano e quindi creere in posti di lavoro per i giovani, aggiustere il lago, tante cose che sono rimaste sospese e vogliono essere soprattutto riprese e dare posto di lavoro. Questa è la cosa più importante in questo momento. Grazie.